Grazie a tutti. Un anno con Papa Francesco, gesti e parole che stanno cambiando il volto della Chiesa. Il governo Renzi è destinato a durare poco, parla Filippo Gallo, rappresentante retina della corrente PD legata a Civati, possibili percorsi condivisi con gli ex 5 Stelle. Rifiuti, intervista all'assessore provinciale Andrea Cutini, le soluzioni del piano interprovinciale serviranno anche ad abbassare le tariffe. Il sottosegretario della difesa Domenico Rossi ad Arezzo, la medaglia d'oro della provincia sarà preservata anche dopo la soppressione dell'ente. La Lega italiana lotta contro i tumori, protagonista di un nuovo appuntamento con nessuno escluso. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la notizia, il notiziario di TSD. Fratelli e sorelle, buonasera. È passato un anno da quello ormai celebre primo saluto di Papa Francesco. Un anno fatto di gesti e parole che stanno cambiando il volto della Chiesa. Rivediamolo insieme. Fratelli e sorelle, buonasera. Iniziava 12 mesi fa la rivoluzione di Francesco. Iniziava, la sera del 13 marzo 2013, il percorso di un pontificato contraddistinto da gesti semplici e spontanei destinati a cambiare la storia della Chiesa. Una figura che commosse anche l'arcivescovo Riccardo Fontana, che durante la diretta di TSD salutò così il nuovo Papa. La Chiesa aretina, cortonese e pitturgenze, saluta il Vescovo di Roma e gli assicura piena comunione e devozione filiale. Dopodiché ringraziamo questo nostro nuovo Papa, che evidentemente se ha scelto il nome di Francesco, vuole avere i poveri del mondo accanto a sé. In questo primo anno di Papa Francesco sono tante le immagini e i gesti rimasti nella memoria di tutti. Dalla visita a Lampedusa, alla GMG di Rio, dall'appello per la pace in Siria alla nomina del Consiglio dei Cardinali. Ma per i fedeli della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, il momento più forte è stato maggio, quando 6.000 pellegrini aretini hanno invaso Piazza San Pietro per la visita ad Limina. Quel giorno il Pontefice li invitò ad essere strumenti di pace. Io vorrei fare una domanda a tutti voi. Quanti di voi pregate ogni giorno allo Spirito Santo? Saranno pochi, eh? Eh, pochi, pochi, pochi. Ma noi dobbiamo fare questo desiderio di Gesù, pregare tutti i giorni allo Spirito Santo, perché ci apre il cuore verso Gesù. Ora la speranza è che il Pontefice, che porta il nome del poverello d'Assisi, faccia presto tappa sul Sacromonte della Verna. Un anno fa, il 13 marzo 2013, l'elezione di Papa Francesco. Sono tante le novità, i segni, gli insegnamenti di questi 365 giorni che qualsiasi tentativo di fare un bilancio rischia di invecchiare appena proviamo a farlo. Per cui non ci resta che ripercorrere con brevi flash questo anno, a partire da quel buonasera iniziale che ha praticamente abolito le distanze. E poi il nome, Francesco, per la prima volta nella storia, il poverello d'Assisi, riferimento appunto alla povertà, all'umiltà, alla semplicità. Però proprio anche il coraggio di prendere per la prima volta un nome che nessun Papa aveva preso finora. E poi la prima uscita subito dalle mura del Vaticano per andare in Santa Maria Maggiore e al ritorno fermarsi a pagare il conto alla casa del clero. E poi la decisione di vivere in Santa Marta e non nel Palazzo Apostolico. E via via, fino all'ultimo segno particolare, quello di andare in pullman insieme ai cardinali e agli esercizi spirituali. Le interviste, un nuovo modo di comunicare, il Papa che rilascia le interviste ai giornali, dove cerca con semplicità di parlare di se stesso, di spiegare le proprie idee del mondo, la propria pastorale. Ma poi anche tanti fatti importanti, la riforma dello Ior, la nomina dei cardinali, alcuni a sorpresa, il richiamo ai cardinali. Non siete in una corte ma siete a servizio, la Chiesa intesa come servizio, le periferie esistenziali. Grande concetto caro a Papa Francesco, ovvero sia l'attenzione all'uomo in qualsiasi condizione, in qualsiasi angolo della terra. Quindi l'uomo al centro. Attenzione primaria per questo Papa e un grande augurio davvero. E un grazie per questo anno, Papa Francesco, passato insieme. Questo l'editoriale di Andrea Fagioli, direttore di TSD e di Toscano Oggi, il settimanale delle diocesi toscane, che proprio in occasione dell'anno, dall'inizio del pontificato di Papa Francesco, dedica uno speciale all'evento dal titolo Un anno da Papa. Per saperne di più è possibile visitare il sito web www.toscanooggi.it Voltiamo pagina e passiamo adesso alla politica. Il governo Renzi è destinato a durare poco. A parlare Filippo Gallo, rappresentante aretino della corrente PD, legata a Civati. Possibili percorsi condivisi con gli ex 5 Stelle. Sentiamo. Italicum ha bocciato, provvedimenti a sostegno dell'economia promossi con riserva. Può essere sintetizzata così la posizione della componente del Partito Democratico che si rifà a Filippo Civati. Una corrente che in occasione delle primarie per scegliere il segretario nazionale ad Arezzo ha raccolto attorno al 10% delle preferenze. A rappresentarla nell'aretino Filippo Gallo, membro della segreteria regionale PD con deleghe alla ricerca, università e innovazione tecnologica. Questo è il suo pensiero rispetto alla legge elettorale e agli interventi annunciati dal premier Renzi. L'italicum per me è una legge elettorale molto poco digeribile, soprattutto per chi si è battuto in questi anni contro un Parlamento di nominati. Invece alla sera alcune voci hanno trovato un certo riscontro negli annunci economici che il premier ha fatto, ha fatto che sostanzialmente hanno un doppio valore, il primo quello di appesantire un po' le buste paga di riscetti medio-bassi dipendenti, il secondo quello di soprattutto nello spostamento della tassazione dal lavoro verso la rendita, quindi dall'IRAP all'aumento del 26% sulle rendite finanziarie, sembra un primo passo interessante. Il giudizio di Gallo resta però prettamente negativo. È una legislatura deludente, spiega, e si tornerà presto a votare. La riforma del Senato prenderà forma, magari anche questa, molto migliorata rispetto alle prime proposte, alle prime bozze che circolano. Diciamo che si può tornare anche a votare alla fine del semestre europeo. Io non credo che questa legislatura abbia comunque un orizzonte temporale più largo di un anno. Al di là dei proclami di arrivare al 2018, tutti sanno e tutti pensano che in realtà l'anno prossimo si torna a votare. E su possibili condivisioni con gli ex 5 Stelle spiega. Il tema è un altro. Può esistere nel futuro un centro-sinistro, cioè qualcosa che abbia un'aspirazione progressista, che era poi quello che noi proponevamo all'interno del PD. Quindi in questo senso pare abbastanza evidente che ci siano alcune sensibilità, anche nel Movimento 5 Stelle, che possono dare un contributo. Veniamo adesso alla cronaca. Arrestato il quinto componente della banda, che nei giorni scorsi ha aggredito due rumeni per il mancato pagamento di una prostituta ad Arezzo. Le indagini dei carabinieri hanno evidenziato il coinvolgimento di un 23enne albanese domiciliato in città. Sono cittadini albanesi di età compresa fra i 20 e i 30 anni, anche le altre persone arrestate. E ora torniamo a parlare della gestione dei rifiuti. Abbiamo intervistato su questo tema l'assessore provinciale Andrea Cutini, che alle proteste risponde alle soluzioni del piano interprovinciale. Serviranno anche ad abbassare le tariffe. Sentiamo. La provincia di Arezzo ha recentemente adottato il piano interprovinciale dei rifiuti. Quali sono i punti forti di questo piano? Prima di tutto la grande novità è che è un piano che non si ferma i confini amministrativi della provincia. Ma si allarga anche ai territori della provincia di Siena e Grosseto e della Val di Cornia. È una novità introdotta dalla legge regionale che ritiene che si possano meglio programmare la gestione dei rifiuti, non solo su bacini provinciali, ma su aree più ampie. E quindi è una pianificazione che tiene in considerazione un ampio territorio. Si tratta di più della metà della superficie della Toscana, 800 mila abitanti, con una produzione di rifiuti intorno alle 600 mila tonnellate annue. Uno dei punti importanti, forse uno di quelli più attesi, è quello legato all'ampliamento dell'inceneritore di San Zeno. Anche in questo senso verrà scongiurato questo ampliamento. I dati ci riportano un quadro per il quale non è necessario quello che è stato chiamato volgarmente il raddoppio dell'inceneritore di San Zeno. Noi prevediamo che su San Zeno ci sia bisogno di un impianto di incenerimento, però con potenzialità molto più ridotte rispetto a quelle del raddoppio e che tale obiettivo possa essere raggiunto anche con migliorie sull'impianto esistente. Ecco, in questi ultimi giorni, quando si parla di rifiuti ad Arezzo, si parla soprattutto del tema del caro bollette. Il piano interprovinciale non interviene direttamente su questo punto, però può essere uno strumento utile in qualche modo per scongiurare questo aumento delle tariffe? Il piano non interviene direttamente su questo campo, però prevede degli interventi che possono andare a migliorare la situazione, in particolare sul tema che prima dicevo. La gestione dei rifiuti necessita di essere portata avanti in maniera razionale, anche perché i rifiuti sono già ora e lo saranno ancora di più delle risorse, pensiamo alla carta, al legno, a metalli, sono sempre più rari e quindi questi andranno in conto anche a costi e prezzi superiori, per cui recuperarli porterà nuove economie. Accanto a questo, il piano dice una cosa chiara, che impianti non più necessari è il caso che vengano dismessi. Sulla possibilità di un aumento delle tariffe sui rifiuti, c'è da registrare oggi l'intervento di Feder Consumatori. Le associazioni dei consumatori di Arezzo chiedono che sia fatta chiarezza su quel che accade, lo chiedono soprattutto al presidente di Auto Toscana Sud e al presidente della conferenza dei sindaci della provincia di Arezzo, si legge in una nota. La conferenza dei sindaci soci pubblici di Toscana 6 avrebbe il dovere di assumere ufficialmente una propria posizione. Una cerimonia intensa e molto partecipata, quella che ha celebrato il trentesimo anniversario dalla concessione della medaglia d'oro al valore militare al gonfalone della provincia di Arezzo. Nella Sala dei Grandi questa mattina le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche, le fasce tricolori di moltissimi sindaci e tanti cittadini hanno voluto prendere parte all'evento al quale era presente anche il sottosegretario alla difesa. L'onorevole Domenico Rossi era assicurato sulla futura collocazione della medaglia d'oro attribuita alla provincia di Arezzo in caso di scioglimento del lente. Sentiamo il suo intervento. Io credo, mi sono impegnato affinché venga onorata comunque la medaglia d'oro di questa provincia, per cui credo, credo, laddove effettivamente un giorno ci fosse la soppressione della provincia di Arezzo, ritengo che il posto migliore per onorare questa medaglia sarebbe ovviamente il vittoriano, così come tutte le bandiere di guerra delle nostre forze armate decorate di medaglia d'oro al valore militare, così come il gonfalone della provincia di Arezzo. E veniamo adesso alle notizie dalla nostra Diocesi. In occasione della festività di San Giuseppe e quindi di tutti i papà, il Centro Pastorale Diocesano per la Famiglia, in collaborazione con la Parrocchia della Pieve di Santa Maria di Arezzo, promuove un momento di preghiera e di festa. Monsignor Alvaro Bardelli, parroco della Pieve di Santa Maria, celebrerà una messa mercoledì 19 marzo alle 21.30, seguita da un momento di convivialità. Banca Etruria per lo sport, oltre 30 le società sponsorizzate per la prossima stagione. Il servizio. Il centro direzionale di Banca Etruria si trasforma in uno scenario degno di una piccola Olimpiade, in occasione della festa dello sport. Centinaia di atleti hanno partecipato oggi pomeriggio all'incontro promosso dall'Istituto di Credito Aretino per riunire i rappresentanti delle numerose società e associazioni sportive sponsorizzate anche quest'anno. Un importante contributo che per la stagione 2014-2015 la banca ha voluto destinare a 33 società che coinvolgono migliaia di giovani. Un appuntamento tradizionale, molto gioioso per la nostra banca. Abbiamo scelto di sostenere gli sport giovanili a fianco delle famiglie, delle associazioni sportive, per creare ai giovani possibilità di fortificarsi, di crescere in ambienti sani ed abituarsi anche ad una corretta competizione che nella vita aiuterà. Numerosi i ragazzi presenti all'iniziativa in rappresentanza delle diverse associazioni sportive. Ci troviamo con Daniele che è arrivato terzo assoluto nel campionato regionale toscano di Bocce, giusto? Sì, giusto, ragioni, è stato divertente giocare. Com'è andata la gara? Bene, mi sono divertito tanto, è la cosa più bella e emozionante. In difesa della propria qualifica professionale, le guide turistiche eretine con il centro guida Arezzo e provincia si presenteranno domani a Firenze per discutere sull'entrata in vigore della legge europea 97-2013 che istituisce la nuova figura di guida nazionale. La legge stabilisce che la qualifica professionale di guida conseguita da un cittadino dell'Unione Europea in un altro Stato membro abbia efficacia su tutto il territorio nazionale, senza individuare dunque i siti di particolare interesse storico, artistico e archeologico per i quali occorre un'abilitazione specifica. E come ogni giovedì torna l'appuntamento con nessuno escluso, la rubrica dedicata alle realtà del terzo settore. Protagonista di oggi la sezione rettina della Lilt, la Lega Italiana lotta contro i tumori. La rubrica si inserisce all'interno del progetto Le abilità diverse della disabilità promosso dalla Caritas Diocesana e finanziato dal bando CEI 8x1000 2012 ed è realizzato grazie al prezioso contributo di due giornalisti speciali, Gianmarco e Paolo. Vediamolo insieme. L'obiettivo è quello di costruire attorno al malato oncologico una resta di solidarietà, di sicurezza e di informazione. Oggi nessuno escluso va alla scoperta della sezione provinciale della Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Quella rettina fa parte delle 106 sezioni provinciali presenti in tutto il territorio nazionale. Possiamo dire che l'impegno della vostra realtà è strutturato su tre fronti? La Lilt è Lega Italiana lotta a tumori di sezione provinciale di Arezzo, ma in generale la Lilt nazionale si occupa di prevenzione primaria, prevenzione secondaria e assolutamente di stare vicino ai malati, quindi alle loro famiglie. Da che punto di vista lo fa? Lo fa attraverso l'educazione alimentare, lo fa attraverso la riabilitazione quando si fosse verificato un evento in fausto e lo fa anche attraverso le visite di screening oncologico gratuito durante la campagna nazionale. Infatti ci sono svariate visite gratuite offerte dai medici che comunque collaborano con questa anniversità attiva. La Lilt promuove anche attività rivolte ai più piccoli? La Lilt nazionale ha concesso a noi, la Lilt di Arezzo, di creare una sott'associazione in seno alla Lilt stessa, che è quella della banda Piccoli Chef. La banda Piccoli Chef è un marchio registrato che vede sotto di sé diverse attività, tra le quali appunto l'educazione alimentare attraverso laboratori di cucina, dove i bambini manipolano il cibo e si avvicinano a questo elemento conoscendolo e comunque incentivando anche il loro consumo di alimenti salutari atti alla prevenzione. C'è anche un servizio relativo alla pet therapy? Faccio parte di un'associazione sportiva di Lilt antistica di Arezzo, che si chiama Le Impronte e noi abbiamo sposato a pieno il progetto Lilt, quindi ci occuperemo della parte di pet therapy, quindi di attività di sostegno con gli animali. C'è un progetto che si chiama Girotondo intorno al sogno, che collega la pet therapy con la prevenzione sociale per i disagi dell'infanzia. Girotondo intorno al sogno è un progetto che nasce dalla collaborazione di più professionisti, che hanno come denominatore comune il fatto di essere dei volontari Lilt e che hanno creato una rete per fare prevenzione e sensibilizzazione sociale rispetto ai disagi dell'infanzia. È strutturato questo progetto a partire da più incontri gratuiti, in cui la famiglia ha la possibilità di incontrare professionisti come ad esempio psicoterapeuti, psicologi, dietiste, logopediste, neurologo e attraverso questi incontri l'obiettivo è quello di creare una prima accoglienza che orienti la famiglia verso un possibile percorso di cura. Domenica 16 in marzo il coordinamento donne del sindacato pensionati CGL Cisle e Will di Arezzo incontrerà gli anziani della RSA di Mugliano, struttura titolarità ASL e gestita dalla cooperativa COINEE. Il motivo perché la festa della donna non è solo l'8 marzo, spiegano dal coordinamento, perché le donne hanno sempre avuto nella società italiana un ruolo fondamentale per ribadire il loro impegno sociale. E questo è tutto per questa edizione del nostro notiziario, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TSD. Arrivederci. Grazie a tutti.